Mare inquinato a Pescara, in pieno inverno. Sono i dati dell'arte a renderlo noto, picchi allarmanti di escherichia e coli batteri. Il pensiero va subito ai divieti di balneazione per la prossima estate e il ricordo va a quella appena trascorsa. Ma prima di gridare all'allarme, spiega il vice sindaco, una riflessione va fatta. Non esiste un paragone per capire se l'inquinamento sia allarmante o se in passato vi fossero precedenti, perché mai prima d'ora si era provveduto a fare prelievi in inverno. Questo monitoraggio non è stato mai eseguito negli anni precedenti, quindi non abbiamo una misura di raffronto se durante il periodo invernale i valori potessero essere diversi rispetto agli anni precedenti. Quindi è un'analisi ex novo e quindi va presa per quello che è. Detto questo, la preoccupazione comunque rimane alta, perché comunque sia il fiume Pescara trasporta inquinanti in misura molto elevata. Un'altra riflessione da fare è quella sugli scarichi abusivi, perché la vera difficoltà risiede nel risalire a concessioni effettuate in anni lontani e soprattutto dai protagonisti responsabili. Nelle ultime settimane, infatti, la Guardia Costiera ha scoperto più di 50 scarichi abusivi non censiti. Una bella matassa da risolvere e l'appello dell'amministrazione oggi è alla collaborazione da parte di tutti gli enti. Abbiamo interessato il Presidente della Regione Abruzzo perché coordinasse un'azione, un tavolo tecnico di tutti gli enti locali, perché si assumano decisioni al riguardo. Sappiamo e leggiamo anche sul giornale di un'attività, diciamo, di indagine da parte della Capitaneria di Porto. Non so se anche da parte di altri organi dello Stato, di Polizia dello Stato, se ci sono altri controlli. Però già questi ci danno la misura di, come dire, che qualcosa non funziona e non funziona in maniera elevata.